Si chiama Biacco, Ierofis viridiflavus, nome scientifico. E' un serpente del tutto innocuo, molto diffuso nelle nostre città e campagne, lungo fino a 180 centimetri. Non è difficile incontrarlo in anfratti, cavità, garage, cantine, a Torino come in altre città e paesi. Ma questa volta, in via Silvio Pellico a Carignano, gli operai di una ditta che lavora per la Telecom, che avevano aperto un tombino per effettuare dei lavori, se ne sono trovati davanti oltre 20. Evidentemente avevano trovato un luogo ideale per trascorrere i freddi mesi invernali. Come è corretto fare in questi casi, hanno interpellato il Servizio Tutela Fauna e Flora della città metropolitana di Torino per un intervento di recupero dei rettili. I biacchi saranno tenuti in un ambiente protetto e poi rei messi nel luogo in cui sono stati catturati una volta terminati i lavori. Appartengono a una specie protetta, sono molto utili in quanto derattizzatori naturali che si nutrono di topi. Questo è un biacco, un coluber viridiflavus, è un animale assolutamente innocuo, come vedete, chiunque lo può manipolare. Sono animali molto, ma molto utili perché sono dei derattizzatori naturali. Questo è un esemplare che ha raggiunto più o meno il massimo della dimensione della specie. È un animale di circa un metro e sessanta di lunghezza. Ripeto, sono veramente molto utili perché un animale di queste dimensioni mangia un topo a settimana, tranquillamente. Ripeto, è un biogiorno. Ripeto, è un'ossiste dall'intera del terzo interno. Ripeto, è unいつine finale.